Cos'è lo screening neonatale? Lo screening neonatale è il processo di esecuzione di una serie di test sui neonati per verificare determinate condizioni mediche. Negli Stati Uniti, molti stati hanno uno screening neonatale obbligatorio che un ospedale deve offrire ai genitori. Ci sono 29 disordini metabolici e genetici che il March of Dimas raccomanda di testare alla nascita. Tuttavia, non tutti gli stati testano tutti i 29 disordini. I singoli stati hanno le proprie politiche e leggi in merito ai test che un ospedale deve offrire nell'ambito del loro programma di screening neonatale. Sebbene i genitori abbiano il diritto di rifiutare lo screening neonatale obbligatorio sulla base di motivi religiosi, quasi tutti i medici e i difensori della salute dei bambini raccomandano che i neonati vengano sottoposti a screening. Molte delle malattie che vengono sottoposte a screening sono disordini metabolici o genetici. Se le malattie vengono rilevate precocemente, molti dei problemi ad essi associati possono essere prevenuti. La diagnosi precoce può anche consentire al trattamento di iniziare fin dall'inizio, il che può salvare la vita. La maggior parte dei test viene eseguita entro le prime 24 ore dalla nascita. Lo screening neonatale prevede il prelievo di un campione di sangue, di solito dal tallone del bambino, e l'invio a un laboratorio specifico che esegue test e analisi neonatali. Il tempo necessario per ottenere i risultati può variare, tuttavia la maggior parte dei risultati è tornata in pochi giorni a una settimana. Se i risultati tornano positivi per un disturbo specifico, di solito sono necessari ulteriori test precisi per confermare una diagnosi. Sebbene il test varia a seconda dello stato, tutti i 50 stati testano la fenilchetonuria, fenilchetonuria. Un aminoacido essenziale non viene utilizzato correttamente nei bambini con questo disturbo metabolico. Questo può portare a uno sviluppo anormale, inclusi problemi neurologici e ritardo mentale. I bambini con questo disturbo devono seguire una dieta speciale sin dall'inizio per evitare di sviluppare le complicanze. Una delle altre condizioni esaminate in tutti i 50 stati è l'ipertiroidismo congenito. Questo disturbo può causare ritardo mentale perché la ghiandola tiroidea del bambino non funziona in modo efficiente. Se lo screening è fatto alla nascita, si possono assumere ormoni che permettono alla tiroide di funzionare normalmente. Questo può consentire al bambino di avere uno sviluppo normale. Altre condizioni genetiche e metaboliche che vengono esaminate in alcuni stati, includono la fibrosi cistica e l'anemia falciforme. Molti stati forniscono anche un test dell'udito per i neonati. I genitori che vogliono scoprire quale screening viene fatto nel loro stato possono visualizzare il database sul sito web nasce nel newborn screening and genetic resource center.